bella vecchi trapani, bentorni a tutti e siamo tornati qua con il rotto di vision one, terza divisione, primo pareggio, prima partita, primo pareggio squadra strana questa questa seconda partita speriamo una vittoria lui c'ha un misto tra si sa, seria, si si è proprio un'ibrida alla grande seria, liga, vabbè dai premiera ok è fatta con un po' di tardi ma è una bella squadra lo sai tira di me boom, iaia, non va ma veramente era di maria ma perchè? c'era scritto di maria tutto ma poi guarda dalla pelle e lo so, infatti pur a me sembra strano che era di maria, però c'era scritto di maria guarda quei romantacci tu allunghi e merda DAIE dai ore fa, ore fa dai 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 così no vittanza per loro vai tra l'altro io sto raggattando nel campo davvero che ti è pericolo ma tu non ho tutto posto ancora guero ancora guero vai che tu ho levato nooo ho detto scola del merda queste fatte poi c'è stato il lagghino fino fino che è quasi impercettibile, no? vabbè pronti da fastidio come stai Flanders? lagghino fino fino eeeh è buona è buona è buona è buona? è buona? ok a posto mamma mia uff uff senza di niente finalmente è riuscito a fare un pallonetto quello eh dai guarda i trapani come sultano sto tagliato bello che ciò si lo fai da AMMAZZO Ammazzalo! 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 Ammazzano il tiro! Oh, vieni così a tirarli fuori! Vieni a cacci! Fa un culo! Non lo fai da quello da online, non cambio tiro, faccio un'altra cosa quando arrivo là davanti, cioè... Come si segna da quello, regalo? La deprecisione è là! Non mi estende a me però, gioco con te! E vuoi fare dei replay della partita di prima, ti giuro! Di quella di ieri! I replay! Perché il mio che sbaglio qua quello online è il mio che segna da testa, uguale! No, vabbè, no, 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 no! Ma è il bancino quello? No, adesso! Perché sbaglia così tanto? Ma che cazzo ne so! Ma che aspetta! Oddio! MA CHE ASPETTA! Mamma mia, Fabio de Dei! Mamma mia! Cadronia Walker! Guarda che gol! Ma è tutto in fronte, ma mancavo che la diabola in testa! Oh, come ho girato! Mamma mia Walker! Cioè questo è come la Roberto Carlos! Chuck Norris proprio! Kai Walker! E' cominciato lo script, cioè... E' bene, ci devi andare, devi fermarlo, guardalo, guardalo! Tranquillo! ma in mezzo ma in mezzo si sto con compagni di fare in mezzo che faccio però se certo per fatto 85 anni di campo mariana e un pochettino ho fatto in gigantismo la cosa perchè l'ho fatto così che le mamme e' giustamente la stoffa la stoffa di vento da te ma erogico no guarda dio amma mia compagni non fischio i falli la quale è già la crisi occa il corredo del bambino per me lo capo a roma hai visto? e vabbè ma ben cazzo ti vediamo subito la prossima partita seconda partita vera se mi mette il terzo brahimi ma che è? bail in prestito ragazzo ma la squadra è un po' pura scarafaggia 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 siamo la banda la vita di scarafaggia e di calamità e gore oh guarda non gli ha dato manco il fallo no no gli ha dato il fallo con due porco poi mi svegli perché su palla così buttata in mezzo non c'è andato nessuno bella dimariglia 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 mamma mia è il momento 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 boh va che è passato forza oh no vai cutigno vai cutigno ah vabbè cutigno perché di precisione perché te l'ho detto pure cutigno tira ma che cazzo ho fatto ma tanto lo sei buttato ma che va all'indietro cioè vabbè comunque la partita equilibrata è abbastanza si si ah che è mo fallo ti ne fa cambia metti che ne fa che ne fa troppo olè 2 a 1 mamma mia lo piatta quantissimo senti quale c'era una partita ti capito tanto che no ormai è troppo tardi vai brinca mi ha battuto che cazzo che cazzo fai cambialo 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 è gol era troppo bello che si troppo però non è possibile palla a benzena di testa è sempre gollo ma che vuol dire perché cazzo c'è le compagnie che si le compagnie cazzo stava andando fuori gioco orca tana niente dopo tre partite però siamo ancora imbattuti imbattuti sconfitti tre partiti sconfitti dopo tre partite dopo tre partite siamo Papa Martillo dopo tre partite siamo a cinque punti ecco qua e niente comunque dai cominciata meglio dell'altra terza divisione perché non ha molto manco una partita niente ci vediamo domani nel prossimo episodio e noi ci vediamo 3.000 like dopo tre partiti e noi ci vediamo bella